ciao ragazzi anche oggi allenamento ci dedichiamo al bilanciere nel particolare snatch è una tecnica difficilissima sono ancora lì ad imparare roba da professionisti ma noi ci proviamo quindi fai questo buon riscaldamento bilanciere vuoto e ci vediamo alla forza ciao ciao ragazzi siamo alla forza mi raccomando con il sollevamento pesi non si scherza quindi occhio per qualsiasi domanda scrivi sotto è una tecnica difficilissima lo snatch è la più difficile qualche campione in ascolto ci potrà dire la sua quindi noi proviamoci la prima parte parte da sopra il ginocchio e la seconda parte parte da terra quindi occhio rimani concentrato ci vediamo al workout ciao ragazzi siamo arrivati alla fine quindi occhio 10 8 6 4 insieme agli addominali e alla corsa finale quindi guarda bene questa sequenza questa parte del bilanciere non fa lo squat quindi occhio qualsiasi domanda scrivi sotto e iscriviti anche al canale mi raccomando allenati bene ciao 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 Grazie per la visione!